avrei commesso i seguenti reati corruzione dei pubblichi sotto ufficiali frodi svariate costruzioni illecite diciamo di mio arbitro raggino dell'altru incredulità false licenze comunali peculato che io non so manco che bordi barca rotta flauto lenta sette appropriazioni in debiti e che altro 11 approfitti di regime a 5 atti in falso pub una domanda chi è secondo te l'essere più solo al mondo è il ricco capisci il ricco è più solo perché è più raro i poveri sono tanti tutti amici sempre assieme c'è lazzaroni che non te fanno più campare come disse nostro signore Gesù egli disse beati i poveri che si metteranno a sede alla mia destra mo se non ci fossero gli ricchi che fregano li poveri e li poveri non esisterebbero e Gesù insomma gli ducerebbe rimanere a sede da solo diciamo come un povero Cristo se mi piego ma ma che il prossimo tuo dica vorrei essere come lui perché chi ammira non giudica è chiaro? branca, branca, branca leone, leone, leone leone, leone, leone leone, 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 leone leone, 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 leone No, 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 no No, 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 no No, 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 no